Eccoci, siamo un po' nel mirino ragazzi, allora, è una puntata densa, ho messo il mirino perché siamo, siamo nel mirino, allora, la sigla era se telefonando, ringraziamo, mi è sembrata una sigla all'uopo per quello che è successo ieri sera ad anno zero, concludendo, riassumendo, iniziando, è una puntata densa, si sentono anche degli odori, ora non ho capito com'è la faccenda, comunque, partiamo in tromba di corsa, via, allora, partiamo dalle uscite di Reset, in questo momento stiamo trasmettendo la diretta web della conferenza stampa di Santoro, andate su Reset, ve la trovate, vi trovate sia il link che il visore, e lì ascoltate quello che sta accadendo, la libertà di espressione è nel mirino, non pensiamo che siano cose che non ci riguardino, allora, le uscite dei Reset di oggi, trulla l'ero e trulla lì, affirma Ezio e Alessio Gensini il pericolo della fine dell'unità d'Italia, una riflessione di Ferdinando Imposimato, cronaca di un impero decadente, di Vanessa Belardinelli, da non perdere, poi 5 febbraio 2011 il grande evento, andate a leggere, ci sarà un incontro a Capranica organizzata proprio da Reset, per quanto riguarda giornalismo partecipativo, libertà di impressione, eccetera, 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 andate a aprire il posto firmato Doriana Goracci, 5 febbraio 2011, incontro a Capranica per un altro modo, mondo, è possibile, punto interrogativo, andiamo avanti, il Premier ora chiama alla rivoluzione berlusconiana, di Alessandro Consonni, anche questo da non perdere, poi cosa abbiamo? Di Fernando Bassoli, gioia e rivoluzione, quando la lotta deve partire dagli intellettuali e dagli artisti, poi abbiamo dall'isola dei Cassantegrati, l'unico vero reality in rete, non solo, come ben sapete, Vinilis e Rockwool, ponti che uniscono, poi, affirma Marco Barone, manifestazione della fiomma a Bologna, tanti operai, trulalero, trulalà, come siamo messi? Sono già mal preso? Allora, poi, poi cosa c'è? Ah, questa l'ha pubblicato il mio fratellino, quello non con il naso a rosto, fratello Alberto Aldo, che io stamattina non avevo tempo, e siccome data la situazione che siamo nel mirino, ha riproposto la fiaba di fratello Marghezzo che nel paese del cucù, per un'oscura e misteriosa magia, un bel giorno sparì la democrazia, molta gente non sa, non se ne accorge, trulalero, trulalà. Concludendo, andando avanti, vediamo un po' di aprire tutto, qui è un po' una puntata, un po' di unissima, un po' ribollente, allora, andiamo sulla pagina di Facebook R7, la diretta con Santoro, ve lo detta, poi, il pericolo della fine dell'unità d'Italia, una riflessione di Ferdinando Imposimato, ve lo detta, poi, questa è bella, bella nel senso che non è bella, rifiuti tossici sotto al cemento, sequestrata la nuova tangenziale nelle Bresciane, perché è una storia vecchia, piare che con i rifiuti tossici si facciano un po' tutto e di più. Poi c'è anche la diretta web tv dall'Egitto, oggi è stato celebrato il Collera Day, andate a vedere, ci sono tutti i link, c'è la diretta da Al Jazeera. Poi, andiamo avanti, vediamo un po' di aprire tutte le marene, qui oggi ho una puntata, un po' di un... come dei, non lo sa. Poi, trulalero, trulalà, l'urlo di Twitter, un massacro, sempre dall'Egitto, su elzinfiamme, giornalisti arrestati, polizia brutale, e le notizie, tutto attraverso via Twitter. Poi, sempre dall'Egitto, internet inaccessibile bloccata all'arma della protesta, la piazza sfida Mubarak, trulalero, trulali, la faccenda come è messa qui. Allora, vediamo invece quello che troverete sotto al video di Fratello Maghetto, cioè sotto al video, a parte che il testo del poste mi sembra sempre lo stesso, non è lo stesso. Dentro troverete delle notizie aggiornate, linkate dentro al testo del poste. Veniamo alle notizie di oggi. Allora, cosa abbiamo? Innanzitutto, il governo vuole indietro l'IVA sulla tassa della spazzatura. Non male, eh? Poi, una bella notizia, avevamo avuto, eh, dalle news che Mandela non si era sentito bene, Mandela invece è stato addirittura dimesso ad orostobare e sta molto bene. Era stato ricoverato per problemi respiratori. Un in bocca al lupo a Nelson Mandela. Poi c'è il video di anno zero di quello che è successo ieri sera e questa è una cosa che, insomma, per chi l'avesse perso si vede proprio in quel momento. Poi cosa abbiamo? Questo riferito alla giornata della memoria di ieri c'era anche un bel articolo intitolato, che è una bella storia, un cioccolatino per non dimenticare. Poi abbiamo un bel video, simpaticissimo, emozionante, c'è Fratello Pinguino che è stato arrestato. Andate a vedere Fratello Pinguino a leggere il perché è stato arrestato. C'è il video. Poi, per il mistero del bel tempo che fu, sul caso Salvatore Allende, fu omicidio o suicidio, c'è una nuova, è stata aperta un'indagine, perché pare che ci sia qualche punto interrogativo. Per la nuova legge, quella sul locale, vero, quella sul federalismo, è saltato il bonus a fitti, questo sappiatelo. Poi, un bel articolo dove, per la sera, sporcaccione a pazzo, nelle carte, sesso e droga. Tanto per approfondire, vero? Poi, dalla Spagna è venuta fuori una denuncia sulla scomparsa di 261 bambini durante il franchismo. Tanto per, non solo approfondire, ma insomma, quando nel bel tempo che fu, andava molto, dal nero, come sapete, perché non era, come siamo? Sono mal messo oggi. Sono un po' agitato, insomma, c'è tante notizie. Cosa volete che gli ricco? Allora, Algeria, il Premier, ha sospeso il ritiro delle patenti automobilistiche per limitare le proteste. Stava scoppiando un po' il pettone, più che il consueto, sapete che in Algeria la situazione, cioè tutta l'Africa è una certa situazione. Poi, c'è un video dallo Yemen della manifestazione contro il Premier. Andate a vedere perché la situazione è grave in Africa, eh? Molto grave. Poi abbiamo la notizia che Fede ha correlato il suo capo scorta perché il PM disse accompagnavamo le ragazze. Ora, non si sa se è vero, non so, non è vero. Comunque sempre per la famosa storia degli sporcaccioni a Palazzo. Poi, i francesi, siccome si sono un po' terrorizzati dopo quello che è successo con Wikileaks e Julian Assange, ovvero sia il governo francese ha detto no a tutte le fotocopie di qualsiasi documento a tutta la sua diplomazia nel mondo. Poi abbiamo Iva Zanicki per la serie Prendi questo in mano. Zingara, oh yes, dice che in un'intervista su Oggi ha messa a prego per la Boccasini e per il Pool. Punto. Poi, da leggere, molto interessante, ovvero sia il ministro Bondi dice che contro la disonestà politica che lo ha, giusto, colpito, valuterà se rimettere il mandato. Sempre per la serie strategia della comunicazione ti racconto quella dell'Uva. Poi, nelle reazioni di Berlusconi il segreto della leadership. Andate a leggere perché è molto interessante, fatto da una persona competente per quanto riguarda non solo la comunicazione ma anche le strategie a Palazzo. Poi abbiamo per la serie Poveri Noi, se povera Italia, a Carditello va all'asta il Palazzo dei Borboni. Sarebbe la mini reggia come quella di Caserta e quindi, insomma, la situazione è grave ma non è seria. Sotto al video troverete però anche tutti i video di ieri perché essendo la giornata alla memoria non deve essere solo le giornate del 27 gennaio ma tutti i giorni io ve li lascio un attimo perché è importante andare di nuovo a leggere, andare a leggere quello che si è perso, giusto? Adesso cosa andiamo a fare? Cosa andiamo a fare? Andiamo a? Talalero, talalala. Dov'è? Dov'è finito? Ah, eccolo lì, sì, va bene, non c'è alcun problema, ce la faremo. Adesso andiamo a vedere notizie da Flash News. Allora, manifestanti in piazza in Egitto, allora, controllano Suez e poi anno zero ce lo scontro nell'Agico ma addirittura c'è già una riunione perché pare che anno zero o verrà sospeso oppure non si sa. Verificheremo. Poi in Albania corteo silenzioso dell'opposizione. Bello, può essere un'ottima strategia, giusto? Poi, 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 siamo a posto. Al 17 marzo sappiate che c'è festa per i 150 anni dell'unità d'Italia quindi ci sarà tutto chiuso, scuole eccetera eccetera perché diventa una festa nazionale. Per quanto riguarda la diretta video di Santoro, che vi ho detto, vediamo se riusciamo a saltire qualche parola perché non si sa mai, vero? Come siamo con i tempi? Siamo già rovinati? Quasi. È quasi finito. Speriamo che non ci sia... No, non c'è lo spot. Non si sente molto ragazzi. Quando parlava Santoro sì, quando parlava Travaglio sì, per quanto riguarda chi sta parlando penso che sia il portavoce dell'Use Sgrae non si sente niente. Quindi chiudiamo questo argomento. Vi posso dire che la situazione è grave, è grave sotto il fronte della libertà di espressione. La telefonata di ieri sera è emblematica. Vi faccio un paragone. In un'intervista alla BBC, Tony Blair fu protagonista di una scena che vi racconto, ovvero sia l'intervestatore gli chiese all'epoca, non si sente signor premier mani sporche di sangue, questo riferito alla guerra in Iraq. Tony Blair rispose che non successe niente. Il protagonista dell'intervista è ancora lì a lavorare alla BBC e invece Tony Blair addirittura deve essere presente in processo a tribunale perché si deve verificare se la partecipazione dell'Inghilterra alla guerra in Iraq forse è tutta trasparente. Allora, vediamo noi come sono i tempi. Mi raccomando l'appuntamento è quello di Capranica. A Capranica il 5 febbraio, esattamente, vado a leggere perché no, sapete che frattare il maglietto è un po' cittrullo, incontro a Capranica, un altro mondo, modo è possibile. Argomento, giornalismo patricicativo, libertà di espansione, qui bisogna già chiudere, io non so cosa fare ragazzi. Ho cercato, spero di avervi detto tutto, se non vi ho detto tutto, è lo stesso, la buona volontà ce l'abbiamo messa, come sapete ci mettiamo sempre il cuore sulla site, il blog senza padrone, senza padrini e che purtroppo spera sempre di trovare il tempo, la possibilità e la libertà di minare i mirini, ma ricordiamoci che siamo nel mirino. Allora, concludendo, riassumendo, partiamo con la sigla di corsa perché qui siamo rovinati, il tempo scorre, mettiamo questa, vi devo salutare, fra alcuni secondi scoppierà un po' il pettone, nel senso che devo chiudere. Ce la facciamo? Come mai non parte? Perché non parte? Il volume? Ma come al solito, ma come mai? Mi sembra la sigla ideale ragazzi, vero? Abbassiamo poi i volumi per chiaramente, per poter concludere. Lasciamoci così senza rancora, andate sulla pagina di Reset, sapete che siamo nel mirino, la democrazia secondo me è in pericolo, andate a via leggere la fiaba che nel paese del cucù un giorno come per magia spari la democrazia, vi devo lasciare, ci vediamo domani e mi raccomando, la forza incredibile della rete, fate rete e condividete. Un abbraccio ciao